Profeta Malachia, capitolo primo Oracolo, parola dell'Eterno rivolta a Israele per mezzo di Malachia Io vo amati, dice l'Eterno, e voi dite, in che c'hai tu amati? Esaù non era egli fratello di Giacobbe, dice l'Eterno, e non di meno io ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù. Ho fatto dei suoi monti una desolazione e ho dato la sua eredità agli sciacalli del deserto. Se Edon dice, noi saremo stati atterrati, ma torneremo e riedificheremo i luoghi ridotti in ruina, così parla l'Eterno degli eserciti. Essi edificheranno, ma io distruggerò, e saranno chiamati territorio dell'anequizia e popolo contro il quale l'Eterno è indignato per sempre. E i vostri occhi lo vedranno, e voi direte, l'Eterno è magnifico oltre i confini di Israele. Un figlio onora suo padre, e un servo il suo signore. Se dunque io son padre, dov'è l'onore che m'è dovuto? E se son signore, dov'è il timore che m'appartiene, dice l'Eterno degli eserciti, a voi, o sacerdoti, che sprezzate il mio nome, e che pur dite, in che abbiamo sprezzato il tuo nome? Voi offrite sul mio altare cibi contaminati, e dite, in che tambian contaminato. L'avete fatto col dire, la mensa dell'Eterno è spregevole. «Quando offrite una bestia cieca per immolarla, non è male? Quando ne offrite una zoppa o malata, non è male? Presentatela dunque al tuo governatore, te ne sarà egli grato? Avrà egli dei riguardi per la tua persona, dice l'Eterno degli eserciti? Ora dunque implorate pure il favore di Dio, perché egli abbia pietà di noi. Sono le vostre mani quelle che han fatto sciò, e avrebbe egli riguardo alla persona di alcuno di voi, dice l'Eterno degli eserciti? O ci fosse pur qualcuno di voi che chiudesse le porte, voi non accendereste in vano il fuoco sul mio altare. «Io non prendo alcun piacere in voi, dice l'Eterno degli eserciti, e le offerte delle vostre mani io non le gradisco, poiché dal sollevante fino al ponente grande il mio nome fra le nazioni, e in ogni luogo soffrono al mio nome profumo e oblazioni pure, poiché grande il mio nome fra le nazioni, dice l'Eterno degli eserciti. Ma voi lo profanate col dire, la mensa dell'Eterno è contaminata, e ciò che rende come alimento è cosa di nessun conto. Voi dite pure, ah che fatica! «E la trattate con disprezzo, dice l'Eterno degli eserciti, e menate vittime rubate, zoppe, malate, e queste sono le offerte che fate? Potrei io gradirle dalle vostre mani, dice l'Eterno, maledetto il fraudolento che ha nel suo greggio un maschio e vota e offre in sacrificio all'Eterno una bestia difettosa. Poiché io sono un re grande, dice l'Eterno degli eserciti, e il mio nome tremendo fra le nazioni». Malachia, capitolo secondo Ed ora questo comandamento è per voi, o sacerdoti. «Se non date ascolto, se non prendete a cuore di dar gloria al mio nome, dice l'Eterno degli eserciti, io manderò su voi la maledizione e maledirò le vostre benedizioni, sì, già le ho maledette, perché non prendete le cose a cuore. Ecco, io sgriderò le vostre semente, perché non producano, vi getterò degli escrementi in faccia, gli escrementi delle vittime offerte nelle vostre feste, e voi sarete portate fuori con essi. «Allora saprete che io v'ho mandato questo comandamento affinché il mio patto con Levi sussista, dice l'Eterno degli eserciti. Il mio patto con lui era un patto di vita e di pace, cose che io li detti perché mi temesse, ed ei mi temette e tremò dinnanzi al mio nome. La legge di verità era nella sua bocca e non si trovava perversità sulle sue labbra, camminava con me nella pace e nella rettitudine, e molti ne ritrasse dall'iniquità, poiché le labbra del sacerdote sono le guardiane della scienza, e dalla sua bocca uno cerca la legge, perché egli è il messaggero dell'Eterno degli eserciti. Ma voi vi siete sviati, avete fatto intoppare molti nella legge, avete violato il patto di Levi, dice l'Eterno degli eserciti, e oppure vi rendo spregevoli e abbietti agli occhi di tutto il popolo, perché non osservate le mie vie e avete dei riguardi personali quando applicate la legge. Non abbiamo noi tutti uno stesso padre? Non ci ha creati uno stesso Dio? Perché dunque siamo perfidi l'uno verso l'altro profanando il patto dei nostri padri? Giuda agisce perfidamente e l'abominazione si commette in Israele e in Gerusalemme, perché Giuda profana ciò che è santo all'Eterno, ciò che egli ama, e sposa figliuole di dei stranieri. A colui che fa questo l'Eterno sterminerà dalle tende di Giacobbe, chi veglia e chi risponde, e chi offre l'oblazione all'Eterno degli eserciti. Ed ecco un'altra cosa che voi fate. Coprite l'Altare dell'Eterno di lacrime, di pianto, di gemiti, in guisa che egli non bada più alle offerte e non le accetta con gradimento dalle vostre mani. Eppure dite, perché? Perché l'Eterno è testimonio fra te e la moglie della tua giovinezza, verso la quale ti comporti perfidamente, benché ella sia la tua compagna, la moglie alla quale sei legato da un patto? Ma, direte voi, non v'è uno che fece così, e non di meno lo spirito rimase in lui? Ma perché quell'uno lo fece? Perché cercava la progenie promessegli da Dio. Badate dunque allo spirito vostro, e nieno agisca perfidamente verso la moglie della sua giovinezza, poiché io odio il repudio, dice l'Eterno lì Dio d'Israele, e che ripudia copre di violenza la sua veste, dice l'Eterno degli eserciti. Badate dunque allo spirito vostro, e non agite perfidamente. Voi stancate l'Eterno con le vostre parole, eppure dite, in che lo stanchiamo noi? In questo che dite, chiunque fa male è gradito all'Eterno, il quale prende piacere in lui, o quando dite, dov'è l'iddio di giustizia? Malachia, capitolo terzo Ecco, io vi mando il mio messaggero, egli preparerà la via davanti a me, e subito il Signore che voi cercate, l'angelo del patto che voi bramate, entrerà nel suo tempio. Ecco, ei viene, dice l'Eterno degli eserciti, e chi potrà sostenere il giorno della sua venuta? Chi potrà rimanere in piede quando egli apparirà? Poiché egli è come un fuoco d'affinatore, come la potassa dei lavatori di panni. Egli si sederà affinando e purificando l'argento, e purificherà i figliuoli di Levi, e li purificherà come si fa dell'oro e dell'argento, ed essi offriranno all'Eterno offerte con giustizia. Allora, l'offerta di Giude e di Gerusalemme sarà gradevole all'Eterno come nei giorni antichi, come negli anni di prima, ed io mi accosterò a voi per il giudizio, e senza indugio io sarò testimonio contro gli incantatori, contro gli adulteri, contro quelli che giurano il falso, contro quelli che frodano l'operaio del suo salario, e che opprimono la vedova e l'orfano, e che fanno torto allo straniero, e non temono me, dice l'Eterno degli eserciti, poiché io l'Eterno non muto, e perciò voi, o figliuoli di Giacobbe, non siete consumati. Fin dai giorni dei vostri padri voi vi siete scostati dalle mie prescrizioni, e non le avete osservate. «Tornate a me, ed io tornerò a voi, dice l'Eterno degli eserciti, ma voi dite, in che dobbiamo tornare? L'uomo devegli derubare il Dio, eppure voi mi derubate, ma voi dite, in che t'abbiamo noi derubato? Nelle decime e nelle offerte, voi siete colpiti di maledizione perché mi derubate voi tutta quanta la nazione». «Portate tutte le decime nella casa del tesoro, poiché vi sia del cibo nella mia casa, e mettetemi alla prova in questo, dice l'Eterno degli eserciti, e vedrete se io non vapro le cateratte del cielo, e non riverso su voi tanta benedizione, che non vi sia più dove riporla. «E per amor vostro io minaccerò l'insetto divoratore, ed egli non distreggerà più i frutti del vostro suolo, e la vostra viglia non abortirà più nella campagna, dice l'Eterno degli eserciti, e tutte le nazioni vi diranno beati, perché sarete un paese di delizie, dice l'Eterno degli eserciti. «Voi usate parole dure contro di me, dice l'Eterno, eppure voi dite, che abbiam detto contro di te? Voi avete detto, è vano servire il Dio, e che abbiam guadagnato a osservare le sue prescrizioni, ed andare vestiti al lutto a motivo dell'Eterno degli eserciti. Or dunque noi proclamam beati superbi, sì, quelli che operano malvagiamente, prosperano, sì, tentano Dio, e scampano.» Allora quelli che temono l'Eterno si sono parlati l'un all'altro, e l'Eterno è stato attento ed ascoltato, e un libro è stato scritto davanti a lui per conservare il ricordo di quelli che temono l'Eterno e rispettano il suo nome. «Essi saranno nel giorno che io preparo, saranno la mia proprietà particolare, dice l'Eterno degli eserciti, ed io li risparmierò come uno risparmia il figlio che serve, e voi vedrete di nuovo la differenza che vè fra il giusto e l'empio, fra colui che serve Dio e colui che non lo serve.» Malachia, capitolo quarto «Poiché ecco il giorno viene, ardente come una fornace, e tutti superbi, e chiunque opera impiamente saranno come stoppia, e il giorno che viene li divamperà, dice l'Eterno degli eserciti, e non lascerà loro né radice né ramo. Ma per voi che temete il mio nome, si leverà il sole della giustizia, e la guarigione sarà nelle sue ali, e voi uscirete e salterete come vitelle di stalla, e calpesterete gli empi, perché saranno come cenere sotto la pianta dei vostri piedi nel giorno che io preparo, dice l'Eterno degli eserciti. «Ricordatevi della legge di Mosè, mio servo, al quale io diedi in Horeb, per tutto Israele, leggi e prescrizioni. Ecco, io vi mando Elia, il profeta, prima che venga il giorno dell'Eterno, giorno grande e spaventevole. Egli ricondurrà il cuore dei padri verso i figliuoli, e il cuore dei figliuoli verso i padri, on Dio verendo non abbia colpire il paese di sterminio». Grazie. 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 Grazie.